NINFOMANIAC È la notte di Natale, ma a tavola il cotecchino sono io. Qui c'è Erpelliccia, che mi lega come un salume d'op e inizia a cresimarmi il culo col gatto a nove code che mi ha regalato. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Stop! C'è qualcosa di nuovo, anzi di antico in Gio, la ninfomane bella da giovane, brutta da adulta, di Lars von Trier. Lei segue la voce della vagina come una suora segue l'incenso. Essere donna oggi, vivere il prodigio del tuo ciclo mensile. Il forte di questa storia di cinque ore è la piacevolezza squisita della fiabba nera che la nipotina racconta al nonno. La parte debole è invece il punto di vista fallocratico del regista, che vuole capire ma si limita a rappresentare, mettendosi l'obiettivo tra le gambe. Il mio regno per un orgasmo, la mia trus per un pene negro, ma se osate pronunciare questa frase, il segreto del sesso è l'amore. Giuro che vi sparo, stile Paolo Pietrangeli. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro. Stop!